In Valle Pelini e Alto Sangro, bullismo, abusi, problemi familiari, atti di autolesionismo fanno accendere la spia rossa del disagio giovanile. L'Aslo 1, Avezzano, Sumona, L'Aquila, Corre e Ripari e prende un servizio a titolo gratuito a beneficio degli adolescenti. Nei tre consultori familiari, tra Valle Pelini e Alto Sangro, è stato attivato uno sportello denominato servizio solo per voi, che si avvale di un team con specifiche figure professionali, a disposizione di ragazzi tra i 14 e i 20 anni. Un supporto importante alla luce della portale di un disagio giovanile che l'Aslo, da alcuni anni, ha indagato e portato alla luce con una presenza all'interno degli istituti scolastici, facendo emergere dati più che allarmanti. All'interno delle scuole medie, dove l'Aslo è entrata da anni con servizio di ascolto, si è accertato che quasi il 30% dei studenti ha le prese con malesseri causati da ragioni diverse. Prime tra tutte le separazioni tra i genitori, a seguire crescenti casi di bullismo, abusi, atti punitivi contro se stessi, ad esempio ferite da taglio, serie difficoltà a relazionarsi con altri. Un mondo giovanile sofferente e spesso senza punti di riferimento, tanto da spingere l'Aslo, con uno sforzo organizzativo non indifferente, a varare un pool di specialisti. Lo sportello è aperto due volte al mese, almeno in questa fase di avvio, nei consultori familiari di Sulmona, primo e terzo mercoledì in via Gorizia 4 e Pratola, primo e terzo giovedì in via Valle Madonna 15, mentre a Castel di Sangro via Porta Napoli funziona il primo martedì del mese. L'accesso a servizio è diretto e senza prenotazioni, ci si rega direttamente alle sedi dei tre consultori, dalle ore 14.30 alle 16.30 e si avvia percorso di recupero. Gli specialisti si occuperanno di visite ginecologiche, contraccezione e malattie sessualmente trasmesse, accoglienza e l'educazione alla salute, consulenza su vita affettiva e su sociale. Un lavoro integrato per affrontare le problematiche dei ragazzi in tutte le loro molteplici sfaccettature, dalla prima visita e poi lungo tutto il cammino di recupero.